Ecco piazzole, la storia infinita. È già perché il vero tormentone dell'estate bassanese non è stata la solita canzone latinoamericana, ma bensì il destino delle due ecopiazzole di San Vito e quartiere 25 Aprile. Ne sono successe e ne sono state dette di tutti i colori, politici e non, sta di fatto che i lavori sono partiti. Ecco qui le immagini di quartiere 25 Aprile, dove non si placano le lamentele di una parte dei cittadini. Ci lamentiamo per la scarsa o assente comunicazione. È stata indetta un'assemblea a marzo 2024 in cui c'è stato comunicato che la decisione era presa e che quindi insomma non era neanche possibile discutere. E alla luce dei fatti è stata richiesta da oltre 150 residenti un'assemblea di quartiere straordinaria che si terrà il 24 settembre. All'ordine del giorno ci sarà l'eco piazzola e poi i lavori di, con parole mie, abbellimento del parco. Allora il parco non lo abbellisci collocandoci un'eco discarica a cielo aperto. Insomma il clima resta teso anche perché si rincorrono voci e versioni che spesso non combaciano con la realtà dei fatti. E allora interviene il sindaco Nicola Finco per fare chiarezza su una vicenda ereditata dalla precedente amministrazione Pavan. I cittadini devono sapere che da quando mi sono insediato il primo documento, il primo faldone che ho preso in mano era proprio il faldone dell'eco piazzole. E in questi tre mesi ho fatto di tutto sia con Etra che con il consiglio di Baccino per trovare una soluzione. Ad oggi non ci sono strumenti amministrativi che mi permettono di spostare questi siti senza il rischio di perdere il finanziamento. L'unica possibilità che ha l'amministrazione è rinunciare al finanziamento che è stato concesso al comune, quindi stiamo parlando delle due ecopie a solo un finanziamento di circa 600 mila euro e comunque nel caso Etra, che è l'ente che ha la gestione del tutto, chiederebbe al comune i danni e questi soldi li dovrebbe pagare tutta la collettività bassanese. Allora, sinceramente queste sono scelte che sono state fatte da chi mi ha preceduto, con l'amministrazione passata, ci sono dei contratti sottoscritti e oggi recedere questi contratti metterebbe in seria difficoltà le casse comunali. Una storia infinita, iniziata anni fa, quando sicuramente si poteva fare di più.